Ragazzi miei, è appena terminata la conferenza stampa di Andrea Pirlo, pre-Juventus e la Suverona. Diciamo che ci sono state alcune informazioni chiave, come la titolarità di Dybala al 100%, quindi domani sicuramente vedremo un paulino dal primo minuto, probabilmente in coppia con Morata, e questo ci fa partire le feels, perché domani sera la Juventus giocherà con questa maglia, non proprio questa, questa è quella originale dell'anno 2015-2016, ma giocherà con la maglia nuova che è stata utilizzata proprio per questa gara e che è stata terminata ieri sul Juventus Store. A me piace, so che tanti di voi non sono d'accordo, ma sono felice di vedere domani sera quella maglia addosso a Dybala a Morata. Scargate OneFootball, qui sotto in descrizione ragazzi, completamente gratuita l'applicazione che vi permetterà di avere tutti i dettagli sulla Juve e sulle altre squadre, dato che comunque tra pochissime gioca anche il classico e me lo guarderò e sicuramente rimarrò aggiornato su OneFootball per anche le formazioni ufficiali che arrivano tra pochissimo. Però ora il dubbio che mi viene è la Juventus come giocherà, perché sì, abbiamo ovviamente la certezza che Dybala sarà titolare, questa cosa mi fa molto piacere, abbiamo da pensare che probabilmente lo saverà anche Morata, poiché Cristiano non è ancora guarito dal Covid, ci ha detto lo stesso Pirlo, cosa che invece ha fatto McKennie e che domani potrebbe essere almeno in panchina, quindi ci sta un po' lottando per cercare di capire se riuscirà ad essere aggregato ai convocati e ai giocatori che saranno a disposizione per andare a Pirlo. Però appunto non dimentichiamoci che domenica sera sì giochiamo con l'Ellas Verona, importantissimo, perché il nostro campionato passa anche da queste sfide qua, no? I tre punti valgono uguali con l'Ellas, con il Napoli, con la Roma, con la Sampdoria, con il Crotone e abbiamo già lasciato due punti indietro la settimana scorsa, è una cosa che non ci è andata giù ed è ovvio pensare che ora bisognerà cercare di fare bottino pieno contro l'Ellas che comunque l'anno scorso ci ha dato filo da tolgere, sia all'andata in casa, sia al ritorno in casa loro, abbiamo addirittura perso. Poi certo è un'altra Juve, ma è anche un altro Ellas, questo va detto, la testa però va a mercoledì col Barcellona e quindi il turnover potrebbe essere adottato per far ritirare, rifietare un po' alcuni giocatori che o hanno giocato tanto o hanno delle condizioni fisiche, non dico precarie, ma sono giocatori che vanno monitorati molto spesso. Quindi oggi faremo una cosa strana. Già in Life to Twitch ho fatto qualche discorso inerente, abbiamo proprio utilizzato Chosen11, Chosen11, non ho idea di come si chiama, che è il sito che andremo a vedere tra pochissimo, ma voglio spiegarvi quelle che secondo me sono le note miliari, quelli che sono i giocatori titolari al 100%, proprio come Dybala che ha confermato Andrea Pirlo, o 99 perché di 100% non c'è niente, e quelli che invece sono i ballottaggi estremi, per farvi capire anche un po' come ragiono all'interno delle formazioni probabili che provo a dare. Quindi ora ci spostiamo, andiamo sicuramente qua, dove il nostro Paolo Dybala è qua sorridente, appunto con la maglia che utilizzerà domani sera, sorridente perché è titolare al 100%. Allora questa potrebbe essere una formazione titolare, ho messo centrocampista 1 e centrocampista 2 per capirlo in conferenza stampa, ho evidenziato ancora una volta questa cosa. Ne abbiamo 4, giocano 2, possono giocare tutti con tutti. Quindi azzarderei però inserire Rabiot. Azzarderei inserire Rabiot perché è andato su quel passaggio lì dicendo Rabiot e Bentancur, Rabiot e Artur, Rabiot e McKennie. Poi magari è stato un lapsus, però non vorrei mai che fosse stata una roba come per dire domani Rabiot gioca e il terzo lo decidiamo. Dato che McKennie comunque sappiamo essere appena rientrato dal Covid, mi aspetto Rabiot più un altro, uno tra Bentancur o Artur. Ma queste sono comunque cose che non vanno a influenzare la formazione. Perché 4-2-3-1? Perché l'altra sera abbiamo visto proprio questo, lo sappiamo. Era una posizione di quadrado che modificava un po' l'assetto e questi tre invece erano i centrali. Abbiamo soltanto Bonucci e De Miral come centrali puri, poiché Delete sta tornando. E ce l'ha detto Pirlo, prossimo rientro quindi teniamo un attimo pazienza, portiamo pazienza perché molto presto potremo vedere ancora una volta Delete tra i titolari o comunque tra i convocati. Questa cosa mi fa molto piacere, si aspetta solo l'ok dell'ortopedico. Quindi è pronto, è pronto. Chiellini invece avrà qualche giorno di riposo. Quindi Bonucci e De Miral probabilmente li vedremo tutti. Probabilmente vedremo ancora Danilo che insieme a Bonucci e a Kluseschi sono gli staccanovisti di Pirlo, giocatori che sono sempre partiti titolari. E quindi secondo me questa può essere una formazione. perché ovviamente poi sembra una difesa a 4 ma molto molto semplicemente è anche una difesa a 3. Con gli stessi 11 sappiamo bene che a Pirlo piace fare questo giochino ed eccoci qua siamo schierati ancora una volta a 3. E poi questo è in fase di impostazione, questo è in fase difensiva. Ma non è detto nemmeno che non si possa giocare col 4-4-2 puro per tutto il tempo. Adesso Quadrado è andato un po' fuori grafica ma c'è. Quindi secondo me ci sono tanti giocatori come Di Bala, Morata, Danilo, Bonucci, De Miral e Quadrado e aggiungo anche uno dei due portieri che comunque cambia poco, che non cambieranno. E anche i due centrocampisti come dicevo prima non cambieranno, non ha tanto senso farli cambiare. Anche lo stesso Kluseschi credo che giocherà al 100%. Quindi il mio ballottaggio è su Bernardeschi. Ora qualcuno di voi potrà dire perché non Ramsey? Ramsey secondo me è uno di quei giocatori che ha bisogno di rifiatare un po' in vista di Barcellona. È un giocatore che non ha la possibilità di fare ripetutamente due, tre partite a settimana di alto livello. Quindi è veramente l'occasione giusta per farlo riposare nonostante all'andata, anzi l'andata, l'anno scorso riuscì a trovare il suo primo gol in maglia della Juventus proprio contro l'Elas Verona allo Stadium. Però secondo me questa sarà la formazione. C'è un ballottaggio che può essere tra Bernardeschi e Frabotta. Molto probabile in realtà che giochi anche Frabotta, però voi mi direte ma Luca ma non può essere così, non ha senso che Frabotta giochi lì. E infatti non è questa la mia intenzione perché molto banalmente molto banalmente mettiamo Kluseschi e Quadrato a fargli esterni dato che Chiesa lo sappiamo è squalificato perché se no poteva benissimo esserci Chiesa come abbiamo visto l'altra sera. Ci ritroviamo Danilo e Frabotta sugli esterni e ancora una volta se vogliamo metterla come se fosse una difesa 3 vediamo che non abbiamo tante difficoltà, basterebbe soltanto invertire Demirale Bonucci ed eccoci qua. Quindi questa sarebbe a 3, questa sarebbe a 4 e buonanotte al secchio, buonanotte ai suonatori. Quindi secondo me la Juve vivrà di questo ballottaggio tra Frabotta e Bernardeschi, almeno in questo momento. Non mi dispiacerebbe vedere Bernardeschi titolare perché è un giocatore che voglio cercare di recuperare. Già con Sarri si era provato, almeno solo a parole, senza riuscirci effettivamente. Pirlo l'ha detto anche in conferenza, un giocatore che vedo molto sull'esterno, un giocatore di corsa, di fatica. Ha detto anche che a Firenze faceva quel ruolo a tutta fascia, no? E graficamente prima l'avevamo messo lì. Lo voglio riproporre, proprio per farvi capire di cosa sto parlando. Bernardeschi, eccolo qua. Kuluseschi lo rimettiamo qui e facciamo questo giochino che è molto molto bello. Vedete? Vedete? Eccoci. Non succede niente, Bernardeschi qua è a tutta fascia, proprio come aveva già fatto anche a Firenze. E Bernardeschi e Quadrado sugli esterni possono giocarci, secondo me. Alexandro è ancora un po' indietro, Pirlo ci ha detto anche questa cosa qua. Frabotta invece è un giocatore, una piacevole sorpresa. Possiamo definirla così, che ha giocato spesso, soltanto contro la Dinamo Kiev in Champions League. Non è stato schierato da Pirlo in questa stagione, quindi è un altro potenziale titolare nella partita di domani sera. Invece tutti gli altri, dato che abbiamo la certezza di ribala e il sentore che Kuluseschi possa riposare, mi sembrano tutte scelte obbligate. Poi sono contento perché Quadrado, secondo me, può garantirci quella difesa a 3 o a 4 a seconda del momento della partita. Però, vi dico la verità, una formazione di questo tipo e, che ne so, vogliamo metterci Artur? Tanto per, solo perché non ha giocato l'altra sera dal titolare, quindi immagino che un discorso di rottazioni possa essere questa. Beh, se devo dirvi proprio la verità, è una difesa che non mi fa così schifo, anzi, una formazione che non mi fa così schifo, sperando poi di poter recuperare anche il buon Cristiano Ronaldo in previsione del Barcellona, per mettere dei minuti nelle gambe a Paolo Di Vala, che sicuramente avrà bisogno di queste partite per tornare al top, e per confermare ancora una volta le dotti balistiche di Morata, che in questo momento sembra molto in forma, dove Kuluseschi potrebbe giocare nel suo ruolo naturale, quindi l'esterno di destra, e dove Bernardeschi potrebbe avere anche l'opportunità di riprendersi un po'. Quindi ragazzi, fatemi sapere, l'unico problema potrebbe essere legato alla condizione dei due centrali, in attesa dei delit sono un po' pochi, però secondo me la Juve a grandiline giocherà in questo modo, ma voglio sapere le vostre formazioni probabili qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se un format di questo tipo, un po' leggero, nel quale anche solo a livello grafico, andiamo a vedere tutte le cose, tutte le formazioni, tutte le scelte, le motivazioni, vi spiego anche perché secondo me Pir lo farà queste scelte, vi può piacere oppure no, perché è una cosa un po' inedita, non l'ho quasi mai fatta, anzi è la prima volta che la faccio su YouTube per una partita specifica tra campionato Champions League, e se vi piace, se raggiungiamo che ne so, 2000 like a questo video, può diventare un appuntamento fisso tutte e tutte le volte.